Incidenti, malori alla guida e risse per strada a fine settimana impegnativo per le forze dell'ordine sulle strade delle nostre valli. Un 32enne bergamasco è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato aggredito dopo un incidente questa mattina all'alba a Corte Franca. Un 46enne di Attonia è in fin di vita dopo un malore alla guida ed un camionista si è miracolosamente salvato dal rogo della sua motrice. L'episodio più assurdo è quello accaduto lungo le strade della Franciacorta poco dopo le 5 di questa domenica mattina. Ha visto coinvolte 8 persone ad avere l'appeggio il 32enne bergamasco che ora si trova ricoverato all'ospedale civile di Brescia ma non per le conseguenze dell'incidente vincì a causa di un pestaggio in seguito al sinistro. Pare, stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Isio, che due auto si siano scontrate lungo la provinciale di Corte Franca, a pochi passi dal Narn Baruane che l'incidente abbia richiamato fuori dal locale numerose persone, soprattutto giovani fra i 17 e i 25 anni e che poi qualcuno non ancora identificato abbia selvaggiamente picchiato il conducente di una delle due auto, il 32enne bergamasco appunto, che ora si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Brescia. Altre 7 persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e sono state trasferite in codice giallo e verde agli ospedali di Ome, Chiari e di Iseo. Molti di questi ed altri testimoni sono quindi stati ascoltati dalla polizia per capire che cosa sia accaduto, chi e perché abbia picchiato il bergamasco. Solo critiche anche le condizioni di un 46enne di Artogne, vittima attorno alle 10 di questa domenica mattina di un malore mentre si trovava alla guida della sua Audi e percorreva via nazionale a Gianico in direzione sud. L'uomo probabilmente accortosi che non stava bene e riuscito a fermarsi a bordo strada. Qualcuno ha chiamato i soccorsi, i primi ad arrivare in posto sono stati i carabinieri di Artogne che lo hanno trovato riverso in auto, le portiere non si aprivano. Per estrarre l'uomo dall'abitacolo è stato necessario rompere un vetro. Nel frattempo in posto sono arrivati i volontari di Camuni e Soccorso e l'automedica, quindi è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati dal distaccamento di Daffo. Quando l'uomo è stato estratto dall'auto era in arresto cardiaco, è stato più volte rianimato in posto, quindi trasferito all'ospedale di Esin a bordo dell'ambulanza di Camuni e Soccorso, da qui a bordo dell'eliambulanza giunta da Brescia, che lo ha imbarcato e trasferito all'ospedale civile cittadino. Le sue condizioni sono disperate. La strada è stata chiusa a lungo per permettere i soccorsi. Si è miracolosamente salvato dal rogo che ha distrutto la sua motrice, invece un autista che sabato sera, attorno alle 23 mentre percorreva la Brebemi in direzione Brescia, si è accorto che qualcosa non andava. Ha costato ed è riuscito a scendere dal mezzo prima che questo venisse avvolto dalle fiamme. Imposto per domare il rogo che ha completamente distrutto la motrice, i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e di volontari di Trevilvio che una volta spente le fiamme hanno bonificato la zona.